La farfalla Contente, proprio contente, assoste una massa di volte, ma più di tutto, quando chi m'ha liberato in Germania, che ha messo a guardare una farfalla senza la voia ad maniera. La farfalla, contento, proprio contento, sono stato molte volte nella vita, ma più di tutto, quando mi hanno liberato in Germania, che mi sono messo a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla. Questa poesia di Tonino Guerra è stata pubblicata nel 1978 nel Polverone e rimanda molto allusivamente alla vicenda attuale. Questa, invece, Inum dal Stredi I nomi delle strade di Nino Pedretti non mi pare che rimandi neanche allusivamente a quello che sta accadendo, però è molto bella, come peraltro tutta la raccolta in cui si trova che è al voci. Inum dal Stredi al Stredi agli è tutti ad Mazzini, ad Garibaldi, agli è di Pepa, ad quei che scrivono, chi dà di comando, chi fa la guerra. e mai, e mai, che ti capita di vedere via di uno che faceva i berretti, via di uno che stava sotto un ciliegio, via di uno che non ha fatto niente perché andava in giro su una cavalla. e pensare che il mondo è fatto di gente come me che mangia i radicchi alla finestra contenta di stare l'estate coi piedi nudi. Leggo due poesie di un altro grande poeta romagnolo Nino Pedretti Ecco, questa prima si intitola Ivec. Ivec da mi paesi sta dagli ori di sdei solo al murai e guarda una maccia al sole un ves, un gatto che va a mezzo da una finestra. Lo che ha detto a sto salmeni maltubiri l'occhio ha fatto i muri se calmanoni grevi l'occhio manieva pieni tirando solo la sostanza. Ivec mi ha fatto senti che guarda bene in zir prima che mi ciudat che isa. e poi quest'altra si intitola e stoned lo stonato mesi in a a show view lane a 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 Grazie a tutti.